Io tante volte ho sentito dire da un genitore io devo sistemare mio figlio sistemare ragionate, sistemare come un vaso cinese o una bottiglia di rosolio dove lo sistemi? Dentro la vetrinetta? Sopra l'armadio? Hai messo al mondo che cosa? Un oggetto? Voi hai messo al mondo un'anima e se hai messo al mondo un'anima non la devi sistemare noi dovremmo fare un altro mestiere che è quello degli sovraintendenti dei capitani, capitano, mio capitano perché avete mai visto in uno stagno un'anatra? Eh? Con gli anatroccoli dove stanno? Dietro Avete mai visto un'anatra con tutti gli anatroccoli davanti? È impossibile, è contro natura perché le anatre sono intelligenti e noi meno noi meno